È una mostra davvero tutta da vedere, bellissima, magari accompagnata anche dalla musica di Verdi. Roma ha questa grande tradizione degli orafi e gli argentieri che ogni anno si misurano su un tema e quest'anno Desideri Preziosi presenta un connubio tra l'arte orafa e l'opera lirica. Verdi viene ripercorso e interpretato da questi grandi artigiani della nostra città. Il compito di un'associazione è organizzare quello che c'è, i nostri associati ma anche quelli non associati. Un mondo che è fatto di questi artigiani che dovremmo definire gli artisti. Se sono artisti i mimi pensate questi che lavorano da tanti 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 anni queste materie preziose e ce le fanno vedere in questa splendida esposizione. Quindi noi abbiamo un dovere di far conoscere alla nostra città quello che i nostri colleghi sanno fare. Quello che di bello sanno fare. Siamo qui nello spazio dell'auditorio in un allestimento nuovo rispetto alle passate edizioni e come vedete la fotografia, l'allestimento e ciò che producono credo che sia un vanto per la nostra città.